Ciao a tutti, grazie al bupostino di Torino che è venuto oggi a trovarmi. Io sono Roberta Ersiglia Realini e ho realizzato questo progetto Illustra tu la storia, un mondo fatato per sognare ed è un progetto che sto consegnando gratuitamente come dono alle scuole sia dell'infanzia sia primarie e nei reparti pediatrici degli ospedali. Perché? Perché ho scritto questo libretto che contiene e custodisce 16 racconti della mia infanzia che io ho vissuto e aneddoti vissuti con la mia famiglia con mio nipotino Zeno di 9 anni. Alla fine di ogni racconto ho fatto inserire la pagina Illustra tu la storia, una pagina bianca dove il lettore può continuare la storia disegnando e scrivendo quello che la storia stessa lo ha ispirato. Perché hai deciso di fare questa cosa? Ho fatto questo libro per lasciare un ricordo al mio nipotino Zeno. Ho chiesto a lui se era d'accordo perché c'è il testorielle e lui è il principale protagonista, soprattutto quella del Zante e la ragnatela gigante, che ho chiesto appunto a lui il permesso di inserirla perché insomma è una storia che non è così piacevole per lui che l'ha vissuta. E per lui, per lasciare un ricordo a lui, ho messo su carta questi miei ricordi e cose vissute con lui. Ascolta, quante copie hai stampato e distribuito fino ad oggi? Ho fatto stampare 5.000 coppie e in quasi tre mesi adesso a casa me ne sono rimaste 1.000 ancora da distribuire, ho dei contatti quindi scenderanno sicuramente. Dove le hai distribuite? Le ho distribuite in quasi tutte le scuole del mio territorio, sia la scuola dell'infanzia, sia la scuola primaria e negli ospedali del mio territorio, quindi l'ospedale di Borgomanero, l'ospedale di Novara e l'ospedale di Verbagna. Senti, ma i bimbi come reagiscono a questo dono? Sono contenti, sono contenti perché è un libro illustrato con delle belle illustrazioni e dei bellissimi colori e in più lo dono in una sacchettina che si può colorare, corredata da un piccolo set di matite, gomma e temperino, poi una scatoletta con delle matite colorate e dei pastelli a cera. E quindi i bambini quando aprono lo vedono e subito mettono lo zainetto sulle spalle. Ascolta, questo libro però uscirà da questa provincia, andrà anche in altri posti? Sì, sì, ho già tramite una ONUS, ne ho già pronti 1500 che verranno distribuiti in cinque regioni italiane, quindi in Puglia, in Emilia Romagna, in Lombardia, insomma ci sono ecco queste cinque regioni che nelle scuole sia dell'infanzia sia del primario verranno distribuiti. Senti, perché hai scelto di farlo gratuitamente? Per fare un regalo ai bambini.